Pandemia e DAD, gravi le conseguenze sull'apprendimento degli studenti. Quanto emerge dal rapporto Invalsi presentato questa mattina? Felicità Pistilli. La scuola negli anni della pandemia è racchiusa in una parola. DAD, la didattica a distanza ha fatto emergere difficoltà nuove, ma soprattutto ha aggravato problematiche già esistenti. Una scuola che però aveva già molte diseguaglianze interne, fra nord e sud, fra le aree periferiche e le metropoli. Anche fra le diverse classi sociali. L'emergenza Covid ha ribadito queste distanze e gli effetti sull'apprendimento nei risultati dei test invalsi. I ragazzi senza prospettive, alle medie il 39%, a difficoltà con l'italiano il 45%, con la matematica numeri simili alle superiori. Di fatto un ragazzo su due termina l'anno impreparato, aumenta la dispersione scolastica. Le conseguenze anche della socialità negata. Un primo passo per ritrovarla alle scuole aperte d'estate, importanti per riprendere la vita insieme. Dice il ministro dell'istruzione Bianchi. Stiamo lavorando per riaprire le nostre scuole in presenza, lavorando tutti insieme per una scuola che sia veramente il centro del paese. Gli investimenti, 70.000 insegnanti saranno immessi in ruolo quest'anno, altrettanti nel 2022. Stanziati più di 3 miliardi e mezzo, un altro miliardo e mezzo sarà destinato alle infrastrutture. La scuola al centro, gli studenti in classe e l'appello del ministro a vaccinarsi. Le lezioni in presenza, dice, devono essere sicure. Allora, come abbiamo visto in apertura... In apertura... Grazie a tutti.